Io mi chiedo, non mi salvo una persona che mi siano avuto, sono dire capale, non mi salvo, 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 non mi salvo. Non l'ho mai fatto, non ci costruisco alcuni altri, perché è un problema alla fine, però stamattina mi imponerò, anche io gli dare più conti di risposta. E vorrei solo che il mio consiglio comunale e gli amici che sono presenti vi darci un conto di attenzione, perché sono affatti che non sono sfini a te. Allora, io mi chiedo di stare in senso che da un momento non riusciamo a sentire nemmeno le parole di consigliere. Da presto, in presto si serve, consigliere un po' di attenzione, perché poi da questo Consiglio Comunale, ah, insatuisce veramente l'amministrazione per cosa vuole fare, per prendere la città e per tutti quanti voi che state qua vedendo qui. Quindi, se ci date la cortesia di attenzione, poteranno non condividere, però sentite le nostre intenzioni. E' un simile capace, però non c'è la città, ma io vedo che stamattina, ancora una volta, l'Udici, l'Udici come partito di responsabilità, è presente in questa archite, anche ai nostri genitori. Vedo che nella relazione del Sindaco Capora, a conto delle iniziative presentate dal partito secundici a Trattoria, e questo mi vuole essere solo una gratitudine che dal nostro partito venga a prendere la maggioranza. Però, Sindaco, io stamattina avevi naturalito che la tua stessa maggioranza, come io l'ha fatto il momento, in rettendo un altro documento, se parli di interessi della città, non avrete fatto invece che avremmo visto un altro documento che sostenesse questa tua iniziativa, queste due linee non drammatiche. Quindi, come diceva l'amico Polizio, che benvenza che questa amministrazione, che si attiva per quanto riguarda il piano casa, perché lo sappiamo tutti, che se si muore dell'inizio, è un patrimonio di una richiesta in una città. Giustamente, ma c'è giusto quello di la legge, ora esiste le valli di servizio di legge, ma ora c'è un po' di più. E questo è quello che siamo purtroppo, non mi dico, non mi dico. E poi Sindaco, noi oggi abbiamo, in questa città, esattamente per il momento di legge di un documento, dove io dopo l'invito, anche per quanto riguarda la città, e lo considero, e poi perché ce ne è portato a dire, non si è portato a dire, non si è portato. E noi non è un po' di più da questo sensuale, con gini, possiamo dire, dell'operazione, poi la cosa della diamo come la vogliamo fare passare. E mi riferisco a tutti i casi, con la voglia di un numero no, quello del lontano, del lente, per un anno, e ci verificiamo, io con questo sireno, scusa, quindi è una nozione che mi sta presentando, che è una proposta, non si è portato a dire, perché è una proposta, prima di andare a andare con la Pfennighe, che è il mio caso, non lo saviò? È evitare la barriera con la Pfennighe, con la prospetti del spreco non lo serebbe. E poi, guardi, io adesso, pervene, io mi sento questa proposta, come io arrivò la vita di un po' di interesse, per la sirezione dell'administrazione, che è già un sire, un bebo di operazione, perché è questa cosa, è una wantsima tranzaretta. Poi diciamo di quant'è, con il problema è che ora la mettiamo a tutti, come lo vedete, la città, e siamo tutti quant'è. Allora, premissa, oggi vediamo nei giornali che le risorse finanziarie dei comuni si assustigiano sempre di più. La manovra finanziaria, con un città nei ultimi anni, ed in particolare quella che pensano, hanno progressivamente assortitato l'esperimento da parte dello Stato. La manovra finanziaria, con un città nei ultimi anni, è una cosa, perché l'imiterenza, la patria, il luce, mazza disabilità, fortemente limitata la possibilità di fare la parte dei genitori, e in particolare la possibilità di identità di realizzare le opere pubbliche. E' molto grande, sicuro lo so, è che il prospettivo e il comunico spese a risparmiare non vorranno più pochi eseriti ai cittadini. Quali sono i rimedi per fare questa situazione per recuperare le risorse finanziarie? Qualcuno dice un tanto di posizioni fiscali, qualcuno ha una crozza, smettendo il patrimonio pubblico. A mio parere la prima soluzione è sempre che sia praticata da un punto di vista spettamente normativo, non è praticato in questa attuale situazione di crisi economica, che è terra nel nostro paese, ormai in danni. Ciò che invece appare più per provire è la submissione, o come dicono meglio alcuni, la valorizzazione del patrimonio immobiliare. Sono convinto che nella nostra realtà, la renazione del patrimonio immobiliare, compresa anche un predilice interno di seduzione della spesa e non regola. Il conto è fresco fatto, signora. Secondo studi e decenni, i corsi dell'aggressione, la renazione ordinaria e straordinaria, e gli immobili abitati al pubblico, sono da forse e forse, sono le due dei corsi derivati. Non conosco esattamente cosa avviene nel nostro comune, ma non credo che ci troviamo in una situazione diversa. A fronte di questi corsi pubblichi, l'amministrazione incasca pochissimo dagli immobili in uso a testi, in particolare nel quale spazio di conto della cosiddetta inizia popolare della Cosa, è che, al principio momento del 19, con la rensezione delle edifici, di cui so, è un interesse un ulteriore importante di fare, con l'interesse a molti primi, di diventare, di diventare e di diventare e di diventare, soprattutto cambiare l'attitudine di città. Non è razionale, o agizzare, di sicurezza, temporale e di messi, che sì, potrete, temporaneamente, spiegare lo del benedimento. E le calde, come volate, di diventare, con i stati simili, di vito e famigli, e di amistare con le novità, sempre che fanno il valore, anche se fanno il giusto di scambio. Questa strada mi ha visto che la rica, da peccore di questa amministrazione, e desidera che ci fosse un dei suoi simili di condizione. Dipende l'ottica, deve venire tutti, è la circostanza che il muoio di un pubblico si affidavano in essi, soprattutto in questo caso, se deve sentire, di diventare e di diventare, bisogno di innovazione sociale e di crisi, e compagno di vinti affrontati, con grande ascensione e di modificio. Dipende l'ottica, sicuramente, di un grande opportunità di qualificare il centrale per sviluppare nuove attività economiche, nell'ambiente locale, su un'automunità, in partita, il processo che vi darà grande attenzione alle diverse persone sociale, e rispettare l'amintento degli uomini che vi decido. In fine, dispensate di rimuovare la destinazione e il quadro di corpo alla città. In fine, dispensate di rimuovare la destinazione di questi governi alla realizzazione di opere pubbliche di cui si sente più bisogno, in particolare, la viaggiata per il settore del territorio. L'Udici propone, impegnate il Consiglio Comunale ad approvare in un prossimo grande piano di valorizzazione per le persone immobiliate, comunali, che tenga in massima considerazione per il quattro concetto all'attività esistenziale, pubblica e diverse situazioni sociali, che grado all'interno della realizzazione, che grado all'interno dei figli, e che vinto nella situazione di sale e risorse, alla realizzazione di opere pubbliche, quando particolare, che ha presato la fede, che è sempre un po' di rinforza, con questo quello che ti esista dopo. Poi, un minuto dopo, ti consegnerò questo argumento. Se noi veramente ci dobbiamo d'accordo su queste scelte partite, che sono migliori di euro all'anno, noi veramente possiamo attivare, attivare tanti canali che possono andare su un interesse, su un'indicatoria, ci dobbiamo delle responsabilità che sono enormi, e quindi questo ci dobbiamo dire il tuo programma delle nostre elezioni e il programma che il governo ci sarà, il governo ci sarà, quello che oggi ci ospita a fare una politica dei soggetti possibili. Allora, se per un attimo, non è l'altro, l'ultimo anno che ci rassimo per la stessa elezione, io penso che quando domani non andremo più così sfondati da questi amici, questi amici di famiglia, questi doni, non fanno disperare, io non andremo più avanti per tutti i quali non andremo più avanti, no, includendo questi suffici della città, perché io oggi non sono tantamente la gente quando per il fatto a prendere a ogni anno che ci percepisce dal comune, ma sono risorse che noi possiamo destinare, in degli progetti, in degli interessi dove avremo l'assistente sociale e pubblica, quali sono ragazzi che non possono andare su un'altra, perché sono dei soggetti che è la terza di modelli fisici, non andremo lo sicuro da voglia di fare. Quindi questa, diciamo, è una vostra che è un'opera di oggi. Io sono convinto che vale gli interessi di tutta l'amministrazione e poi se ne siamo andati a tutti i fatti. Io la porto a casa, mi è la Presidente e vi ringrazio per la vostra avventura. Grazie a tutti i quali tutti. Grazie. 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 Grazie.